Che vieni a fare qui? Stiamo vincendo. Voglio che tiri la prossima palla alla mascotte. Perché? Ora che riesco a prendere la mira. Tirala contro il toro e prendila. Fidati di me. Alla mascotte. Eccezionale inizio di la luce. Ne hai eliminati cinque con solo nove lanci ed erano tutti strike. Tieni la palla sotto controllo stasera, amici miei. Ed ecco il lancio. Ma quello è male. Già. Io starei attento se fossi in te. Potrebbe colpirti. Non so mai dove le spedisce. Lo giuro su Dio. Spike! Sei bravo, bravo sei uno. Bene, bene. È tutto tuo. Bene.